Hi everybody, I'm Maurizio Maraglino and I am co-organizer of Startup Europe Week Taranto. Buon pomeriggio a tutti, io sono Maurizio Maraglino e sono il co-organizzatore di Startup Europe Week della città di Taranto. Startup Europe Week è una delle più importanti manifestazioni a livello europeo dedicate alla cultura d'impresa, all'innovazione e alle start-up. Ormai da cinque anni la comunità europea promuove la settimana europea delle start-up, quindi dal 2015 e Taranto ogni anno partecipe ed è una importante rappresentante di questo evento. Come sappiamo quest'anno purtroppo a causa coronavirus lo start-up Europe Week è stato rimandato, come d'altronde tutti gli eventi a livello appunto globale. È solo un rimandare in realtà ai prossimi mesi. La comunità europea infatti ci ha confermato che la settimana europea delle start-up verrà comunque organizzata probabilmente nel prossimo autunno. Ciò nonostante ci tenevo a testimoniare come la comunità di Startup Europe Week Taranto è comunque presente e cerca in tutti i modi di generare quel valore fondamentale appunto sui propri territori. Non è un caso infatti che gran parte degli innovatori, dei makers, delle start-up di questa comunità locale, quindi della comunità ionica, si sono mossi, si sono dati da fare in queste settimane proprio per pensare a degli strumenti, quindi generare appunto delle azioni che potessero contrastare l'emergenza Covid-19 e quindi aiutare la collettività. Come? Attraverso appunto delle soluzioni innovative, delle soluzioni tecnologiche come la realizzazione di mascherine o la trasformazione di impianti industriali per la creazione di respiratori, tutti strumenti che poi sono stati regalati, messi a disposizione dalla comunità proprio alla protezione civile piuttosto che ai comuni, piuttosto che all'ospedale. Quindi arriva un grande segnale dalla comunità degli innovatori tarantini proprio a sostegno della collettività, a sostegno della comunità. La testimonianza che noi portiamo è importante, questo per dimostrare che anche una piccola comunità come quella di Taranto c'è, esiste ed è pronta a mettersi in gioco proprio con l'obiettivo di generare valore e soprattutto di diffondere quella che è la cultura dell'imprenditorialità. Un arrivederci ai prossimi mesi con la speranza quanto prima di poterci rivedere e di poter portare delle nuove testimonianze come anche quelle che stiamo vivendo proprio in questi giorni, in queste settimane, che possono essere utili al territorio ma che possono essere soprattutto utili a generare la crescita di nuove idee, di nuove attività imprenditoriali sulla nostra terra.